Il 23 e il 24 settembre si celebrano in tutta Europa le giornate europee del patrimonio. È un evento che in Italia è promosso dal Ministero della Cultura. Come ogni anno abbiamo pensato ad un percorso per quanto riguarda la città di Pesaro, un percorso per le vie cittadine dedicato a un tema specifico, quello delle collezioni scientifiche che hanno aiutato ad apprendere generazioni di studenti nelle scuole di Pesaro. La collaborazione è con Etra, Entra nell'arte e Antonella Michaletti e quest'anno abbiamo collaborato anche con due scuole, l'Istituto Tecnico Agrario Cecchi e il Liceo Marconi. Abbiamo elaborato un percorso che tutti possono effettuare online grazie al sito Almaloci e grazie alla piattaforma Easy Travel dedicato appunto alla conoscenza, all'esplorazione delle collezioni scientifiche che sono nate a Pesaro subito dopo l'Unità d'Italia, in alcuni casi anche prima, e che tuttora vengono arricchite, quindi si parla anche di collezioni moderne nelle nostre scuole. Come al solito collaboriamo con la Biblioteca Oliveriana di Pesaro, quest'anno abbiamo avuto la partecipazione anche dell'Accademia Agraria in Pesaro e dell'archivio di Gabriele Stroppanobili. La Wallscape di quest'anno, del 2023, per le giornate europee del patrimonio, vede dei protagonisti d'eccezione che sono gli studenti di alcune scuole di Pesaro. Invece di strutturare l'intero percorso e quindi anche i contenuti, come sempre ha fatto l'associazione ETA, noi abbiamo invece fatto da coordinatori, rispetto al lavoro che invece è stato completamente svolto dai ragazzi. Quindi è stato, speriamo, molto formativo, dall'aspetto più di contenuto e di studio a quello più tecnico. Come si costruisce un percorso, come si costruisce un Wallscape e come si realizza, effettivamente, per poterlo poi pubblicare sulla piattaforma almaloci.com, dove poi è disponibile per tutti gratuitamente in modo da poter rifare il percorso liberamente. Quello di domani, quindi, alle 17.30 agli Ortigiuli, c'è l'appuntamento dove ci presentiamo e facciamo un po' un'introduzione al lavoro per poi andare in archivio, dove invece verranno presentati i documenti, verranno presentati tutto il percorso su Almaloci, perché sarà impossibile farlo andando direttamente nelle scuole, ma è importante che questa volta si faccia in un luogo, diciamo, circoscritto proprio perché vogliamo lasciare, anche in quell'occasione, spazio agli studenti per raccontare cosa hanno fatto. Sinteticamente vorrei dire che l'esperienza è stata, secondo me, particolarmente importante perché, a partire dallo studio di queste collezioni scientifiche all'interno delle scuole, i ragazzi hanno veramente compreso più da vicino la specificità della loro scuola e confrontata con la scuola degli altri. Quindi c'è un lavoro di identità rispetto alla propria formazione che credo sia veramente importante.